Tancredi è quasi sulla palla di Altobelli ma il tiro dal dischetto si insacca ed è un colpo di piccone per il morale della Roma mentre per l'Inter è un incredibile tonico che mettono in risalto le pecche difensive della squadra di Lidl ma la grande determinazione di quella di Trapattoni. Il tiro di Bergomi è una bomba. Anche se scifo non è al massimo bisogna dire che il centrocampo dell'Inter e la velocità della manovra hanno travolto finora la sopporifera Roma. Il gol di Bergomi merita una foto. Ciocci è rapido come un furetto a infilarsi fra un nugolo di difensori giallorossi abituati al sole romano ma non a quello milanese che procura terribili insolazioni. La sua memorabile giornata col secondo gol dopo il tentativo di Mandorlini è andato a vuoto. Bergomi festeggia con danze tribali della bassa padana e 4 a 2.